Ciao, benvenuti all'opening della playlist scorci, mete, panorami e percorsi delle foreste casentinesi. In questa playlist esploreremo virtualmente alcuni scorci, percorsi, mete delle foreste casentinesi. Se questi video vi piacciono iscrivetevi al mio canale di youtube, mettete un like oppure commentate questi video. Ciao, benvenuti ad un altro video della serie delle foreste casentinesi. In questa puntata esploreremo rapidamente e virtualmente la strada corta per l'eremo di Camaldoli, partendo da Camaldoli. Sotto una luce autunnale le foreste casentinesi si presentano in questo video con meno ressa e meno persone e meno auto. La strada corta per l'eremo di Camaldoli è un percorso che potete trovare in 3D anche in google street view per farvi un'idea. Il percorso è asfaltato e potenzialmente ricco di tantissime scorciatoie che risalgono in diagonale la strada asfaltata accorciando la distanza e conducendo a piedi i visitatori nell'interno di una ricca e fitta abitaia che permane sino all'eremo di Camaldoli. Buona esplorazione a tutti, un saluto, alla prossima. Buona esplorazione a tutti. 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 Buona esplorazione a tutti.